vi ricordate quel periodo che ha sconvolto l'umanità il tempo in cui i cervi i lupi e gli orsi invasero le strade quando l'umanità si rinternò nelle case atterrita da una minaccia invisibile il tempo in cui regnava un silenzio irreale vi ricordate quando la normalità divenne un atto di ribellione sono stefano messori docente del laboratorio italiano di podcast del progetto mi rest finanziato dal programma erasmus plus e queste sono le testimonianze degli utenti intrise delle emozioni vissute durante il lockdown vicini amore mio di casella viviana conobbi il suo nome all'ultima serata di sanremo era la settantesima edizione di solito non me ne perdo una il vincitore di odato arrivò in finale con la canzone fai rumore e lui il rumore ne portò tanto e nella vita di tutti inizialmente si pensò potesse essere il classico virus di stagione nessuno avrebbe mai potuto immaginare da lì in avanti in che modo si sarebbe accaparrato il ruolo da protagonista assoluto sulla scena di un ipotetico teatro universale la parola covid iniziò presto a girare sulla bocca di milioni miliardi di persone nel mondo ma nessuno sapeva bene cosa aspettarsi da lui e nemmeno come comportarsi quando voleva accostarsi a qualcuno l'accoglienza è un atto di apertura ma lui no non si poteva ricevere in nessun ambiente era chiaramente un ospite sgradito al punto che si diffidava di ogni passante di uno sbadiglio di un colpo di tosse perfino l'amico del cuore o l'affetto più caro non avevano più lo stesso volto una mascherina glielo deturpava non si intercettavano i sorrisi i baci erano proibiti solo sguardi duri e preoccupati quanta fatica alla ricerca di un po di comprensione e mentre le autorità tentavano di distribuire supporti e informazioni senza troppi convenevoli lui varcò i confini di innumerevoli abitazioni portando via con sé le memorie di intere famiglie e le loro espressioni dopo solo pochi mesi di convivenza la drammaticità di quei giorni all'inizio della primavera dell'anno 2020 ebbe il suo culmine quando i numeri delle persone decedute aumentarono in maniera disastrosa da un servizio giornalistico che passò in tutti i telegiornali se ne prese atto vedendo una quantità impronunciabile di bare sfilare come in un unico funerale funerale alquanto anomalo perché i parenti più stretti non erano presenti lui era riuscito a stravolgere tutti quei gesti rituali che contraddistinguono una popolazione nell'assistenza durante una malattia e nella celebrazione di un lutto togliendo loro la possibilità di sostenere confortare e salutare per l'ultima volta chi lo aveva incontrato conosciuto e respirato ero sola tra le pareti della mia dimora e la visione di quelle immagini mi fece trasalire tra i singhiozzi e le lacrime che invasero il mio viso percepivo tutto il dolore di che aveva subito una perdita il muso bagnato della nostra cagnolona arrivo presto in soccorso appoggiandosi sulle mie gambe aveva capito che stavo pensando a te a tutto il periodo vissuto qualche mese prima in cui il mio ruolo da caregiver nei confronti dei miei genitori improvvisamente si concentrò su di te una malattia rara ci aveva costretto a vivere lontano da casa per poterti seguire nelle cure con l'assoluta convinzione che nonostante le circostanze avremmo ripreso in mano il nostro cammino insieme prima o poi non fu così purtroppo in quei 70 giorni di preghiere di speranze ho dovuto cedere ad una realtà sempre più insistente che mi chiedeva di lasciarti andare non è stato facile e non lo è ancora ma in quel periodo di lockdown di fronte alla sofferenza di tante persone che come me avevano dovuto arrendersi lentamente la mia attenzione si spostò su di un particolare davvero importante il destino ci aveva donato la preziosa opportunità di poterti essere accanto fino all'ultimo istante e con questa consapevolezza il mio cuore si rasserenò grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti